Eravamo tre fratelli, Tracy, Benedict e io. No, Johnny! Ho sempre rimpianto quei tempi, in fondo, per quanto sgangherata, era pur sempre una famiglia. Sì! Ho vinto, Johnny, lo sapevo. Non vale. Sì che vale. Però hai vinto tu un sacco di volte. E quando? Io non l'ho vista. Non so quando esattamente la nostra famiglia ha cominciato a disgregarsi. Così! Non ha importanza, in realtà. Vai, Johnny! Il corso degli eventi era già segnato prima ancora che tutto iniziasse. Dicono che le colpe dei padri ricadano sui figli. Via adesso! Corri! Corri! Jacob Vanderbilt era nostro padre. E vai! Bravo, Johnny! Un uomo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per il suo impero di diamanti. Vai! Vatti sotto, Benedict! Leccalo, lega a me! Vieni! Lui gestiva la sua famiglia come gestiva i suoi affari. La sopravvivenza del più forte. Chi era in grado di capire, papà? Non certo io, né Benedict, e tanto meno Tracy. È inutile, non ce l'ha fatta. Andiamo a casa. Qualcuno potrebbe dare la colpa ai diamanti, ma in realtà non c'entravano affatto. che c'è la metà lui? Grazie a tutti.